avevi detto che partevi te lezzo ma io pensavo la registrazione e avete sentito l'asma partiamo seleziona casuale ok ragazzi quindi siamo sempre qua su mortalchrome tuttavia siamo in two player one pad io mister l starò a destra e dovrò combattere mentre i crisi deve fare i saltini che scusami che sono anche loro essenziali per sopravvivere che difficoltà da me oh cavolo kong lao e ti ricordi le mosse di kong lao giustamente quando voglio giocarci io da solo con lui e non adesso le mosse sono destra sinistra del triangolo e devo solo saltare benissimo sarà più utile destra sinistra triangolo ricorda no devi fare anche tu le devi fare le mosse giusto che casino spammi i spami i montanti calcoli la vita in montaggio ormai destra sinistra triangolo dai 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 sai qualcosa 141 non cosa stai facendo non lo so ma io ahdà io sono quello a destra io ho bisogno di essere kong lao sei stupido è fatemi che devo quale cazzo stai facendo a fare i poch è e mostri sono ora siamo volte abbastati montante la ancora con quella siamo sincronizzati per il montante ancora l'altro sai che abbiamo due round dobbiamo sopravvivere ancora salto e salto si parla tengo sotto pressione che calcetti fa niente fa niente lo prendo lo prendo faccio la presa cazzo mi ha preso lui invece la verità speciale falla 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 vai bene abbiamo vinto coordinati basta alla schiena già qui mi sto grattando ok quindi ancora 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 cazzo no no non funziona non fare le prese ancora 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 teniamo sotto pressione vai ancora non si fa scammare troppe volte non basta fare le prese come se lo prendo con un tiramento in più eh fagli bravo guarda che bella questa questa ha funzionato e volo fagli in montante ma non no no come fai a fare queste robe qua non lo so io vado avanti noi facciamo mia mossa a casa esatto muori kung lao vai il classico calcetto no adesso voglio fare la cosa eh ho dovuto come fai a fare le prese l1 eh infatti posso solo parlo io non me l'hai mai detto abbiamo vinto non me l'hai mai detto come si facevano le prese si invece ah forse no bastardo e vabbè le prese contano poco vabbè le prese contano poco vabbè qua abbiamo vinto si cambiamo personaggio no cambiamo postazione anche quanto prima era sto video sono 2 minuti no 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 facciamone a tante pochi cambiamo così una cosa ecco qua mi spero che sia sposato a destra di i kriz ragazzi guarda deve fare i calcetti no come che mi chiamo scusa i kriz sbagliatissimo i kriz no tu sarai sempre i kriz io non so chi sia abbiamo goro sempre siamo abbiamo siamo piaci è OP questo qua dai abbiamo vinto perché è OP eh perchè guardalo non si vede ma no non per forza ha delle mosse straffi ah ma quando ne più sono grossi più mi sembrano lenti a me dipendono le mosse sono strafighi ma se non le sai fare se non sai fare sei nube devi saperle fare ma quando siamo in due però quando siamo in due va bene dai fai montanti volga io faccio il mondo in parte con un montante fa il montante doppio ed era un montante doppia ecco qua vai ma non è il montante efficiente io stavo andando su diventare in su col montante no ma io faccio prima in alto e poi in basso ah bastardo ecco perché mi vinci ecco perché vinci paro pari 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 come si fa come si para ah così si è scusa eh oh non mi ricorda lo sai non sono abituato faccio un'attacco in con tante vena ancora vicini vabbè devo fare io già andrei a farlo tu aia è più facile stare di là ci penso io fai... niente non lo so, premi i tasti al caso premi i tasti al caso che funzionano sempre quelli da dietro che pensano quelli da dietro pensano ma come combattono sti qua si vede che sono in su player ha funzionato vieni qui vieni qui ok eh se mi facevi fare la mossa magari ma non potevo dire ha tipo delle lame e celate quella che ci penso ah se si iscrive con un pyramid non fa male roba a caso questo è a caso è stato risalato col piangolo oh allora il primo è andato a vuoto ma il secondo ancora ancora questo mi è piaciuto allora mi avvicino e poi lo faccio no falli qualco vabbè fermo fermo però a fargli una mossa magari non tenendo premuto sotto aspetta che provo bene ah l'hai fatta tu si ah guardate già adesso boh ancora andate a prendere o si starà stancato non credi bene ragazzi ok ok oh adesso di qua poi così non serve che cambiamo il negozio questa era facile dai si dai è stata molto san facile ora facciamo dovevi muovere te ma l'ho fatto io eh scusami ho infranto la legge ora mi ci vedono tutti tipo fallout roba un bicchiere ti ammazzano tutti potresti andare su incontrato l'incontrato l'incontrato no cambia 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 ah no è la variante diversa va bene non devo stare vai selezioni casuale va bene va bene ah no mi piace mi sa solo vale non so perché perché mi vatti sempre questo qua devi andare tu eh sc su caso oh scusa no no scusa non ti puoi scusare oh ah la variante la variante pipa Kratos immecchiato no adesso non ditemi è scropiazzato ho preso Kratos e ci hanno messo tatuaggi diversi eccolo da cambiano il nome cinese Kratos Quan va bene è schifo cosa Kratos Quan c'è la stessa letta eh in cos'era in in Mortal Kombat 9 c'era Kratos ah mi vanno indietro ma mi cerchio no ecco qua tu sei un bastardo vai ancora eh no questa volta non ci ha non ci ha voluto bene vai avanti vai avanti che gli faccio uno mossa no avanti avanti hai fatto la presa ah lo so aspetta che vi lancio il secchio di barboni ah l'hai fatto tu ma guarda che non ci lascia mica prendere il bastardo eh e beh guarda che fammi vedere come funziona la sorpresa che non ho mai vista eh gli lanci la bimbetta eh gli lanci la bimbetta e poi la bimbetta fa tutto mi fai bene che sto scomodo ok come sempre stai sembra no 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 togli la mano ti prego non ci vuolta daco speciale pronto vai 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 eh vai 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 ma fa ce l'ha fatto lui ce l'ha fatto lui ce l'ha fatto lui cazzo se c'ha cazzo se ci ha trollato qui ci sta qui ci sta un eh volevi ma vera le abbiamo perso ah sei riuscito a sbagliare si montante doppio montante doppio montante doppio montante doppio ok usa montante ora usa montante che fa più danni così eh lo so che fa oppure colpisci verso il basso e poi ma non per me a caso io bovono lì eh vabbè ma io cerco di fare mosse mie oh 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 abbiamo schivato i bivis 3 che stiamo facendo? cavolo ci stanno un po' del culo vai devo fargli una presa subito no vai ecco avevo così fatto qua qui aspetta famelo far me no 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 la testa a uovo vecchio di merda la montante doppio voglio riuscire a fare e il primo non è andato aveva il primo quello che non ce lo mandava eh questo qui ero io quando ho battuto i crissi con scorpion vittoria no bravo raga eh ha incontrato un assassino di il divanziano cosa? ah cos'è? accetto ho fatto non lo so cos'è? non lo so eh deve essere un non lo sai no deve essere un tipo online mi sa non so provabile chi è sto qua? ah non so probabilmente è un bot si Raiden è un bot cos'è sta roba qua? non lo so cos'è sta roba vabbè facciamolo facciamolo stiamo fottendo cosi magari ci da premi speciali noi stiamo combattendo esatto ma basta usa l'abilità speciale no eh 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 sto qua è OP ok occhio eh si ancora non dovrei fare il doppio montante vabbè eh vabbè non glielo ho date no l'abilità speciale vai l'abilità speciale ha funzionatissimo oh che male che gli ha fatto ha funzionatissimo non esiste questo verbo lo so si ma il montante mi ha fatto volare il mio termine mista iettatrice già inventiamo il termine nuovo eh si è un po' incazzato ora spero che lo resti così sta di serato bravo ok ora doppio montante fa più danni eh doppio montante ahia ci ha salvato il culo ah devo fare una presa subito quello la se ci prendeva no non dimmi che la fa lasciala gli stai facendo prese? si sei ben accorto si vai oh 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 stando bassi aspetta non muovere nulla non muovere nulla che gli faccia una roba non muovere neanche la levetta aspetta oh bravo questo era facile quadrato 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 il triangolo verso il basso il triangolo verso il basso faccio la stavo facendo oh ha funzionato cavolo se calcio in muro oh eh si calcettino nello stinco madonna mia quanto è difficile sempre vincente intanto ce l'abbiamo fatta ma che è questo assassino non lo so forse era si sai le come si chiamano no lo so eh infatti neanche io era per online si per quelli la è stato il primato 25 degettoni vediamo ah ok tu cosa sei boh e che ne esoglio va vinci premio ah sono lì quei per poi vincere cambio cambio ok ok cavolo sei difficile potevamo stare due e due no no deve cambiare eh lo so è stato un errore di giugno testo di ahahah eh questo qua è il mio quarto gameplay oggi ragazzi quindi questo qua è il mio quarto video anche per te ah bene siamo tutti e due un po' stufetti scontro simbolo mi sembra mi sembra mi sembra oh ti becchiamo va bene il no stavo per dire il 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 nonnipotente cattivo però mi sembra una bestemmia eh lo è non lo è cattivo non eh però non so se è forte bisogna saper usare scorpio no scorpio quello lì deve essere scorpio eh no no non mangiarti il microfono no è tutto devo guardare avanti perchè sennò faccio come te che alitano il microfono non va bene è tutto ristorico il tuo regno è finito re dei demoni vediamo che dico basta con i convenevoli ok fammi l'attacco speciale in ok fammi il doppio montante ok e io stavo facendo eh scusa mi aspetta scusa aspetta aspetta ah scusa sguardo pensavo di dover usare solo le tre tutte cavolo sta basso eh mi dici sta basso dimmelo doppio montante ora il prossimo bene no ancora no coordination cavolo come abbiamo a fare come sta basso sempre oh 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 cavolo allora non so se ti ti para altrimenti eh altrimenti ti ti ho fatto io questa non era la non so neanche io come ho fatto a farla cazzo ah è stata tu ok presa ora ecco sto parlando bravo quasi bene coordinato quasi siamo stati bravi mi sono sentito ho sentito il feeling qua eh però le abbiamo preso un po' anche qui cazzo cazzo guarda lo stesso è stato basso sempre quanto può madonna non mi riesco anche sui tu aiutare mi vengono più mosse così a caso esatto mi vengono più mosse a caso che quando mi studia ma che stai facendo? ah sì è vero ma anche perchè mi muoveva è questo di lo fai bravo però quando vanno non ti lamenti cosa? però quando vanno non ti lamenti quando? quando funziona non ti lamenti eh no quando funziona non ti lamenti no la presa ti odio scusa ma 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 quanto è difficile ora la sua languata personalizzata era come in casa quella tipo non lo so una terra rotante ma anche per sempre finissimo ma qua un mondo futuristico ok ragazzi quindi io direi che siamo entrambi abbastanza stanchi quindi con i gameplay finiamo qua per oggi e ci si vede nel prossimo video posso avere l'onore? abile onore ok